Ciao a tutti ragazzi, in questo nuovo video entreremo all'interno del motore a due tempi, nello specifico questo è un motore di una lambretta. Quello che vediamo qui, per quanto potrebbe sembrare compatto, non è solo il motore, è l'insieme del gruppo motore, quindi cilindro più albero motore, del gruppo cambio, il gruppo trasmissione e infine direttamente il mozzo della ruota, tant'è vero che se vogliamo fare un cenno storico la lambretta è un po' l'antenato del moderno scooter. Ma per prima cosa capiamo quali sono i tempi che costituiscono il motore a due tempi. Partiamo dal pistone al punto morto inferiore, vediamo che c'è il travaso di alimentazione dove sta infilando la penna che è aperto. Da questo travaso, in questa fase, entra la miscela di aria e combustibile. Dopo vediamo come ha fatto ad entrare. Iniziamo col ciclo. La miscela aria e combustibile si trova all'interno del cilindro. Il pistone sale verso l'alto e inizia la fase di compressione. Faccio notare una cosa, la fase di compressione inizia quando il pistone ha chiuso tutte le finestre del cilindro, quindi sia il travaso di alimentazione che era qui dietro, sia il travaso di scarico. sale verso l'alto, comprime, 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 arriva in cima al punto morto superiore. Quella che rimane libera è la camera di combustione. Lì si trova la miscela di combustibile che è stata compressa. Più alto il rapporto di compressione, più alta l'efficienza del motore. Ma come forse sapete già, il rapporto di compressione non può essere eccessivamente elevato, altrimenti la miscela aria combustibile si autoinnesca per compressione e per innalzamento delle temperature. Mentre noi vogliamo che la miscela si inneschi quando scocca la scintilla. La scintilla dove scocca? Sugli elettrodi della candela che vediamo lì in fondo. Ed è proprio in questa fase che la scintilla scocca sulla candela. E cosa succede? La miscela di combustibile si innesca, provoca un'esplosione e questa esplosione spinge il pistone verso il basso. Il pistone quando arriva verso il basso, fra un istante aprirà il condotto di scarico, perché nel motore a due tempi il pistone funge da valvola anche. Apre il condotto di scarico e libera i gas derivanti dalla combustione verso l'esterno. E vanno nel silenziatore, nella marmitta, quello che spelle i gas di scarico. Subito dopo cosa fa? Scende ancora un po' e si apre ancora quel travaso di alimentazione che abbiamo visto all'inizio, da qui è partito tutto. E adesso dobbiamo capire come ha fatto a salire la miscela di combustibile dal travaso di alimentazione. Torniamo su col pistone. Cosa succede col pistone quando scende verso il basso? Il volume al di sotto del pistone viene compresso, viene schiacciato. Quindi il pistone sta mandando in compressione quella che è la camera di manovella, che si trova qui dentro, dove c'è l'albero motore che gira. Se io comprimo l'aria che c'è dentro qui, quindi la manna ha una pressione più alta della pressione atmosferica, ma la tengo chiusa, sigillata, e vi dico che quella camera è collegata al travaso di alimentazione che vado ad aprire subito dopo lo scarico. Vuol dire che appena il pistone scopre il travaso di alimentazione, praticamente dal travaso di alimentazione letteralmente schizza dentro nel cilindro la miscela di combustibile che era contenuta sotto nella camera di manovella. Quindi il pistone funge veramente da pompa quando scende verso il basso. Il pistone scende per la combustione che ha venuto sotto, cala sotto a un volume chiuso, confinato, e c'è uno spoglio verso il travaso di alimentazione. Appena il travaso di alimentazione si apre, la pressione va su nel travaso o nei travasi di alimentazione e schizza dentro nel cilindro. E quindi qui veniamo finalmente a capire perché il motore a due tempi ha un grosso spreco a una bassa efficienza di quella che è il rapporto tra il consumo di combustibile e l'energia prodotta perché abbiamo il travaso di alimentazione aperto in contemporanea con lo scarico. Quindi stiamo andando a sprecare parte di benzina fresca che se ne va direttamente dallo scarico senza che questa partecipi alla combustione e quindi alla produzione di energia. Ma quindi se abbiamo detto che la parte inferiore al pistone funge da vera e propria pompa vuol dire due cose. Prima di tutto che ogni gruppo termico che è costituito da cilindro, pistone, albero, motore deve avere una sua camera di manovella dedicata perché se io la devo mandare in compressione per farmi schizzare la miscela sui travasi di alimentazione e voglio avere più cilindri in parallelo per fare tipo un motore a 4 o 8 cilindri a due tempi non posso mischiare le camere di manovella perché altrimenti mando in pressione la camera di manovella di un cilindro e poi quale altro cilindro mi prende la miscela dal travaso di alimentazione. Prima cosa, di fatti la complessità costruttiva dei motori due tempi pluricilindrici è altissima e a tal proposito ti rimando a una chicca della zona se non l'hai mai vista che è la Moto Guzzi 8 cilindri. Una moto da competizione del 1950 circa che aveva proprio 8 cilindri a due tempi per una cilindrata totale di 500cc. Come avrete visto oggi siamo in un posto un po' diverso dal solito a registrare questi video siamo all'istituto tecnico Antonio Badoni di Lecco che non è altro che la scuola superiore dove abbiamo studiato sia io che Elena infatti è proprio tra questi banchi dove abbiamo imparato le basi della meccanica che ci accompagnano ancora oggi in tutti i video che avete visto fino ad oggi infatti abbiamo chiesto di poter tornare a scuola per poter utilizzare delle attrezzature più specifiche per poter spiegare quelli che sono i temi dei nostri video per rendere le spiegazioni ancora più semplici ma come potrai immaginare oggi abbiamo parlato di motori però sono tanti temi che possono essere toccati con dell'attrezzatura didattica quindi se sei interessato, se ti piacciono questi video scrivilo nei commenti qui sotto perché i temi che potremmo affrontare sono svariati e se questa scuola ti ha incuriosito qui sotto in descrizione ti lasciamo il link del sito e se vuoi saperne ancora di più, se le richieste saranno tante nei commenti potremo approfondire anche il tema relativo a che tipo di scuola è ma torniamo a noi, cos'è l'altra cosa che implica avere l'albero motore o meglio la camera di manovella che partecipa alla compressione e quindi al funzionamento dei cicli è il fatto che l'albero motore non può essere lubrificato a bagno d'olio difatti se hai visto il nostro video sul funzionamento del motore a quattro tempi che ti lasciamo il link qui nell'angolo il motore a quattro tempi ha la lubrificazione dell'albero motore completamente a bagno d'olio nel due tempi non posso farlo perché ci va il combustibile nell'albero motore e quindi come diamine faccio a tenere lubrificato un albero motore che ruota da 1000 a 18.000 giri in funzione delle prestazioni del motore? abbiamo appena spiegato il perché nel motore a due tempi dobbiamo fare la miscela la miscela di benzina più olio quel 2% di olio che viene mischiato all'interno della benzina per effettuare la miscela va a lubrificare tutti i componenti dell'albero motore e della biella perché si utilizza il 2% di olio? è perché un quantitativo superiore di olio andrebbe a intaccare quella che è la combustione perché poi la stessa miscela di benzina e aria contiene anche dell'olio e se ce n'è troppo rovina la combustione tant'è vero che cosa sono i problemi nella miscela grassa? sporca la candela e sporca e incrosta tutti i condotti ma per ulteriori dettagli ti rimando al nostro video che spiega come fare la miscela e perché viene fatta la miscela ma a parte questo invece un quantitativo di olio troppo basso non sarebbe sufficiente a tenere lubrificati tutti i componenti dell'albero motore che già sono quelli che sul motore a due tempi ne comportano un'usura precoce di fatti un motore a due tempi non vedrete mai che realizzerà 100.000 km come quello di un'autovettura perché? perché sarebbe impossibile riuscire ad arrivare a così tanti chilometri con un sistema di lubrificazione che è contenuto all'interno del combustibile abbiamo un'usura precoce proprio di progetto per come funziona però il motore a due tempi contiene talmente tanti vantaggi di leggerezza e potenza specifica perché vedete che è compattissimo e semplicissimo che rimane ancora un motore validissimo su tantissime applicazioni dove non devo avere peso ma soprattutto devo avere tanta potenza in poco peso a patto di sprecare parte del mio combustibile e come fa a scoccare la scintilla nel motore a due tempi? in realtà il funzionamento è molto simile a quello del quattro tempi solo che in genere dobbiamo gestire un cilindro abbiamo un alternatore che è quello che vediamo qua questo è il volano o meglio funge sia da volano che da magnete funge da volano per dare regolarità nel movimento del motore perché come abbiamo detto nel motore abbiamo una fase attiva dove il pistone scende verso il basso e con l'esplosione provoca energia una fase passiva dove il pistone risale verso l'alto e comprime queste due fasi vanno regolarizzate e se mettiamo una massa pesante che prende energia e la ridistribuisce nella salita il motore avrà un andamento più regolare soprattutto se è monocilindrico ma torniamo a noi questo volano che funge da massa ha anche incollati dei magneti questi che vediamo nella parte interna questi magneti passando vicino a queste bobine che vedete in questo caso isolata e in questo caso con i filamenti dell'avvolgimento più a vista producono energia elettrica in corrente alternata questa energia elettrica che viene prodotta una bobina viene utilizzata per far andare quelli che sono i fari o comunque le utenze in questo caso del motoveicolo mentre l'altra viene utilizzata per far scoccare la scintilla però la scintilla deve scoccare in un esatto momento e come facciamo? andiamo sotto quelle che vediamo sono le puntine che vedete che sono chiuse e se vado indietro c'è un istante in cui si aprono nel momento in cui le puntine sono aperte tra di loro abbiamo quella che è la scintilla sulla candela perché cosa succede? nel momento in cui le puntine sono a contatto tengono cortocircuitata la bobina non consentono la produzione di energia elettrica o perlomeno tengono chiuso il circuito l'energia elettrica viene prodotta ma cortocircuita su se stessa nel momento in cui le apro l'energia elettrica per chiudere il circuito deve passare dai due poli della candela e scoccare una scintilla tra i due lembi come fanno le puntine ad aprirsi e chiudersi? quella parte lucida sul mozzo dell'albero motore non è altro che una camma che praticamente ruotando va ad aprire le puntine sempre a un determinato momento della rotazione che viene anche definito anticipo perché è il momento in cui va a scoccare la scintilla rispetto alla posizione del pistone una volta che si sono aperte l'energia elettrica passa fino a questo cavo ad alta tensione che arriva fino alla candela dalla candela che è isolata in ceramica tra i due poli per evitare di provocare una scintilla all'esterno arriva all'interno dove la scintilla viene esattamente tra quei due polettini lì che si chiamano elettrodi manca un ultimo passaggio per comprendere a pieno il funzionamento del motore partire dall'esterno da dove entra l'aria nel motore l'aria nel motore entra dal carburatore questa è la ghigliottina del carburatore e questo filetto è dove viene montato il filtro la ghigliottina coincide con la manetta del nostro acceleratore più acceleriamo più la ghigliottina si apre e più entra aria all'interno del condotto del carburatore ma dove va questo condotto? e soprattutto più entra aria e più in proporzione entra miscela di benzina e olio questa è proprio la caratteristica del carburatore miscelare l'aria con la benzina una volta che la miscela è nebulizzata entra da questa finestrella che come vedete si trova al di sotto del pistone perché si trova al di sotto del pistone? dobbiamo fare un passo indietro abbiamo detto che il pistone quando scendeva comprimeva la camera di manovella e buttava al di sopra del pistone dai travasi di alimentazione la miscela ma chi è che ce l'ha messa nella camera di manovella la miscela di aria e benzina? lo stesso pistone un'altra volta il pistone quando sale verso l'alto dal punto morto inferiore verso il punto morto superiore in questo caso non sta più creando compressione nella camera di manovella sta creando depressione è come se tappo una siringa e tiro sto mandando in depressione e cosa succede? io sono tutto basso ritorno su quindi inizio a mandare in depressione depressione, 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 depressione ok ho appena aperto il travaso di alimentazione che mi arriva dal carburatore al di sotto del pistone ok è completamente aperto se io dentro qui avevo una depressione e lì apro una finestrella cosa succede? sto tirando dentro quello che arriva e cosa arriva? benzina e aria quindi il mio combustibile il mio comburente quando il pistone poi scende che adesso ho tirato dentro il comburente ecco che il comburente me lo pompa di sopra dal travaso di alimentazione come abbiamo visto prima abbiamo finito di spiegare quello che è il gruppo termico il propulsore quello che crea energia del motore a due tempi come vedete avevamo anche il cambio e la frizione in questo modello non lo approfondiamo in questo video perché altrimenti diventerebbe solo confusionario ed eccessivamente lungo però se è un argomento che vi interessa scrivetelo nei commenti qua sotto perché possiamo affrontarlo sia su un cambio di piccole dimensioni del motore a due tempi sia su un motore di grandi dimensioni come il cambio di un motore diesel o di un motore a benzina simile a quello delle autovetture che utilizziamo tutti i giorni questo video finisce qui spero che vi sia piaciuto sia quello che vi abbiamo spiegato ma anche il modo che abbiamo utilizzato per spiegarlo e con i modelli che avevamo a disposizione io ti saluto qui e ricordi che se il video ti è piaciuto lascia un like e iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto che per noi è molto importante ci vediamo al prossimo video grazie a tutti